Pa 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 Buonasera la cinema Ciao Ok E si era da un bel po' che non facevo un vlog Dopo quasi 8 anni di canale Benvenuti penso nel video più importante che io abbia mai fatto Vi consiglio di guardarlo tutto perché dico delle cose veramente molto importanti Che possono essere anche dei spunti di riflessione per voi In questo video vi parlerò di quello che mi è successo nell'ultimo tempo Di ciò che vorrò fare in futuro e di altre cose molto molto importanti Se sto facendo questo video chiamato il mio finale Almeno penso di chiamarlo così È perché sono finalmente riuscito ad arrivare ad un punto Ad un punto di equilibrio nella mia vita Questo equilibrio che purtroppo avevo perso tipo 10 mesi fa quando mi lasciai Quel punto è stato il momento in cui ho perso qualsiasi certezza della mia vita E da lì in poi è stato tutto un abisso Io da quel momento in poi sono caduto in un baratro bruttissimo Non volevo più vivere, non mangiavo più Quando andavo a dormire non volevo più svegliarmi Ero caduto in depressione Qualsiasi cosa della mia vita l'avevo messa in dubbio Avevo smesso di lottare Avevo smesso di credere in me stesso Non riuscivo più a fare nulla Ho provato lo stesso a portarvi video facendo finta di niente Non dicendovi nulla di quello che mi stava succedendo nella mia vita Perché comunque erano dei fantasmi che volevo battere da solo Lo so che certe cose è meglio parlarne ma io sono fatto così Insomma stavo distruggendo tutto ciò che avevo creato E per arrivare appunto dove sono oggi ci ho messo veramente tanti mesi Ho lavorato tanto su me stesso Ho passato dei momenti davvero brutti Però arrivato appunto di adesso devo dire che sono stati la mia fortuna Perché raga tutto ciò che accade nella nostra vita Ha un preciso scopo Ha un preciso messaggio E ogni cosa che ci accade ci serve per diventare chi siamo davvero Perché questo video si chiama il mio finale? Perché come sapete Pazzoris e Lorenzo sono due persone diverse Con caratteri e ideali diversi Pazzoris è il mio personaggio Nella quale continuerà ad esistere Perché raga ho in mente dei contenuti ancora più pazzi Ancora più divertenti Ma alla cosa dei contenuti adesso ci arriviamo De Anguilli Ed è un'altra cosa molto importante E poi c'è Lorenzo Che diciamo che è quasi l'opposto di Pazzoris Quest'ultimo tempo mi è servito per riflettere Per capire cosa volevo davvero nella mia vita Perché raga io mi sentivo perso Non sapevo più cosa stavo facendo Se studiare ne valeva la penna Che tra l'altro lo studio è stato sempre in parallelo con il canale E continuerà ad essere così Ero proprio caduto in un abisso Se fare video ne valerà la pena Infatti ci ho messo veramente tanto a capire Cosa volevo fare Arrivare a questo punto Al mio finale di stagione Perché dovete vedere questo video Come un finale di stagione Il preludio di un nuovo inizio Di un Pazzoris nuovo Cambiato, rinnovato Con una qualità maggiore Infatti ho fatto dei nuovi acquisti Che adesso vi dirò Insomma nell'ultimo tempo Pazzoris Il mio personaggio mi stava diventando Troppo stretto Non mi rispecchiava più quello che stavo facendo Su Youtube e sui social Ho deciso di fare Dei investimenti molto importanti Ovvero ho comprato una mirrorless Adesso vi faccio vedere Questa bellezza qui Magari adesso vi metto qualche foto Che non si vede così Questo gioiellino nella quale ci ho investito molti soldi Mi permetterà di fare nuovi contenuti Che prima non potevo Avevo una reflex ma Non è pensata per i video Infatti con lei potrò fare anche video all'aperto Video di calcio Cosa che prima facevo molto raramente Perché era uno stress assurdo Fare video con una macchina non adatta per i video Questa per me è una grande liberazione Però ho comprato il microfono nuovo Voglio aumentare la qualità Questo video lo faccio anche per dirvi Che ci sarà un cambiamento sul canale Perché oltre ai contenuti che portavo prima E li porterò con una chiave migliorata Grazie all'investimento della videocamera nuova Che ho comprato il microfono nuovo Contenuti nuovi Pazzi Senza senso Porterò anche video seri Dove vi lascerò qualcosa Io in questi ultimi mesi sono cresciuto molto come persona Soprattutto Quindi tutto il dolore che ho passato E ne ho passato veramente tanto Ho passato dei momenti bruttissimi Beh tutto questo mi è servito per diventare una persona A mio parere migliore E sono molto contento di questo Quindi quando me la sentirò Voglio portarvi dei contenuti Anche riflessivi sulla vita Riflessivi su ciò che accade Come ad esempio fare un video Su quella ragazza Che si è dotta alla vita In quella università Io ho già fatto un video del genere Che ho fatto uscire su Instagram E su TikTok Ma non qui sopra Perché raga Finché non facevo questo video Mi sentivo in colpa A portarvi un qualcosa di diverso Non so come l'aveste presa Ecco anche uno dei motivi Per cui sto facendo questo video Io vi consiglio anche di seguirmi su Instagram Perché ogni giorno pubblico cose motivazionali Cose che faccio nella vita Tante foto belle Anche spunti di riflessione Cerco di rispondervi anche ai messaggi Quindi ragazzi ci sarà un nuovo Pazzovist Un Pazzovist migliorato Un Pazzovist cresciuto Io nell'ultimo tempo non riuscivo più ad esprimermi Io in questi mesi me la sono veramente vista brutta Ho anche cercato di fare lo stesso video Ma comunque bastava guardarmi negli occhi Per capire che non stavo per niente bene Perché ragazzi Vedete agli occhi come sta una persona Io purtroppo le riesco a riconoscere Ho provato a fare finta di niente Ho provato a portarvi lo stesso contenuti Ma si vedeva che stavo spento Quindi ragazzi Questo è il mio finale di stagione Da questo video in voi Ci sarà un nuovo inizio Che spero che sarà bellissimo Spero che il nuovo Pazzovist vi piacerà Ma ne sono sicuro Youtube non invia più le notifiche E niente Quindi attivate la campanellina Per non perdervi nuovi video Che sarà Scusa Yoshi Scusa Yoshi Sono stato veramente tantissimo tempo A riflettere Mesi e mesi A riflettere Su ciò che volevo fare Della mia vita Finalmente l'ho capito Voglio lasciare un segno Voglio lasciare un messaggio Voglio lasciarvi qualcosa Voglio lasciare una mia impronta A questo mondo Perché ciò che ho passato Mi ha dato una sensibilità tale Che so che i contenuti Che vi porterò Saranno un valore aggiunto Per la vostra vita Ci saranno nuovi contenuti Sia seri che pazzi Io vi ringrazio Se siete ancora qui Con me Finalmente ho trovato la strada Che non riuscivo più a trovare Io avevo perso questo equilibrio Vedete questo video Come un nuovo inizio E spero che sarò ricordato Per quello che farò Da adesso in poi Quindi diciamo che questo video È una mia sorta di ultimo video Divide il mio passato Con ciò che avverrà in futuro Ci tengo a ringraziare Tutte le anime Che ho incontrato Nella mia vita Perché avete contribuito Ad essere chi sono oggi Ringrazio tutto ciò Che mi è successo Anche le cose più brutte Perché qualsiasi cosa Anche bruttissima Che ci accade Ci serve per diventare Le persone che siamo oggi Tutto ci accade per un motivo E devo dire che Se non mi fosse accaduto Quello che mi è successo Non sarei la persona Che sono diventato adesso E sarebbe stato Veramente un peccato Perché ho raggiunto Un livello di sensibilità Di maturità Che non avrei mai Raggiunto prima Tutto accade per un motivo Quindi questo È il mio finale Di stagione In copertina C'è una frase Che io amo Che è La fine è il mio inizio Perché raga Ogni volta Che ci vediamo Che ciò che ci è successo Sia la fine Per noi Nulla è più risolvibile Non si può fare più nulla È proprio in quel momento Che rinasciamo E diventiamo Delle persone migliori Che con l'esperienza Accumulata Riusciamo a fare Delle cose Incredibili Non dobbiamo mai Smettere di sognare Non dobbiamo mai Smettere di vivere Non dobbiamo mai Arrenderci Perché la fine Di un qualcosa È solo Un passo Della nostra anima Che doveva accadere Tutto ha una fine Ma tutto Ha anche un inizio Quindi anche se ci fanno Un dotto Se ci succede qualcosa Di bruttissimo Noi non dobbiamo Cadere Anche se cadiamo Dobbiamo avere sempre La forza Di iniziare Per esempio A me La vita Mi deve tanto E quello che ho passato Il karma Ancora non mi ha ridato Ciò che mi ha rubato Però sono sicuro Che prima o poi Avrò la felicità Che merito In tutto ragazzi Perché la vita Mi ha preso troppo Noi invece di Arrabbiarci Di insultare La vita Di perdere la fede Proprio nella vita Ragazzi Non in un dio Ma proprio nella vita Io avevo perso La fede nella vita Ragazzi Non capirò più Perché esistevo Io non volevo più vivere E sono veramente contento Di essermi rialzato Tutti i limiti Tutti gli ostacoli Ce li creiamo noi stessi Il segreto di rialzarci Ragazzi Ce l'abbiamo qui La testa È il nostro unico limite Io ho fatto questa riflessione Se tipo io Morissi domani Non sarei felice Non avrei lasciato Ciò che avrei voluto Dare Ciò che avrei voluto Dirvi Adesso Sta solo a me Scrivere il mio Finale E spero di Aiutarvi Di lasciarvi qualcosa Ho anche tante idee pazze Nella mente Ragazzi Quindi ci sarà Sia un Pazzovis Super divertente E sia un Pazzovis Ma più che Pazzovis Un Lorenzo Che vi parlerà Di cose Di vita Vi ringrazio Per essere ancora qui Per aver visto Questo video Spero di non deludervi mai E spero che il nuovo Pazzovis Vi piacerà Sarà un Pazzovis Molto migliore Questo È un nuovo inizio E non vedo l'ora Di tutto Ragazzi Sono veramente Contentissimo Lasciate un like Commentate Perché veramente Ci tengo a sentirvi Leggerò tutti quanti Vi voglio tanto bene Da Pazzovis È tutto Noi ci vediamo al prossimo Pazzo video Bella Noi ci vediamo al prossimo